Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, non vi spaventate, sono struccata e avrò questa faccia qui, per un po' almeno. Volevo fare un video un po' a chiacchiericcio per parlarvi del, forse l'argomento più richiesto da tutti quelli che seguono questo canale, ovvero come si sono evoluti i miei ghost letterari, come sono cambiate le mie abitudini letterarie nel corso del tempo. E visto che voi sapete benissimo che io sono la number one celtrona di Booktube, non avevo voglia di fare un video, prepararvi e girare, quindi mi preparo così poi riesco anche a girare un altro video e lo rendiamo un po' chiacchiericcio, così diventa anche un po' meno pesante, ecco. Sarà una sorta di get ready with me, nel senso che io piallo la mia faccia in questo modo e così insomma posso intanto parlare e raccontarvi. Nelle mie abitudini e di come sono cambiati i miei gusti nel corso della storia. Bene, ora io toglierò gli occhiali, quindi ho anche smesso, ok, ho ufficialmente smesso di vedere qualsiasi cosa, quindi parlerò guardando lo specchio un po', così sarà un po' strano, però insomma volevo raccontarvi, visto che davvero me lo avete chiesto in boh, ogni volta che chiedo quale video vorreste vedere, questa è la prima risposta che ricevo sempre e boh, nel senso non so neanche come si faccia questo tipo di video, quindi spero che seguiate quello che un po' mi viene in mente mentre parlo, ok? Ho fatto solo una scaletta giusto per ricordarmi qualche cosa. Allora, intanto che mi metto il primer, perché ho dei pori sul naso che sono grandi come le buche di Roma, partiamo proprio dalla Genesi, ho iniziato a leggere alle elementari, perché prima non sapevo leggere, non sono una bambina prodigio che già sapeva fare le cose, e ho iniziato leggendo il primissimo libro, proprio me lo ricordo, il primissimo libro della mia vita è stato Matilda di Roldalver, l'avrò già detto 800.000 volte, e diciamo un'altra invece delle autrici che ho letto molto alle elementari è Bianca Pizzorno, che tuttora è una delle autrici che io annovero tra coloro che sono state formative per me, però diciamo la lettura per me era già qualcosa di forte, già dalle elementari, però non avevo bene a fuoco che mi piacesse o cosa mi piacesse, non so, era un'epoca in cui ero troppo giovane, cioè mi piaceva moltissimo, ero una bambina anche io, sono stata una bambina anche io, però diciamo la vedevo anche come un po' una competizione, perché noi facevamo sempre la gara di lettura a scuola, e io ho vinto per tre anni di fila, quindi io la competizione fin da sempre l'ho presa sempre molto tranquillamente, no? Vabbè, a parte ineddoti stupidi, però devo dire che forse la grossa svolta, quella dove ho proprio capito che io volevo leggere per tutto il resto della mia vita, è stata tra la quinta superiore e la prima media, dove io ho scoperto ovviamente quella che è la mia serie preferita, i miei libri preferiti, ovvero Harry Potter, e per me è proprio stato un punto di svolta, perché lì ho proprio capito che la letteratura e la lettura in generale erano qualcosa che avrebbe sempre fatto parte di me, e che non so, era qualcosa di troppo grosso, troppo profondo, troppe cose, e diciamo in questo bollirone di inconsapevolezza fondamentalmente, fondamentalmente è tanta inconsapevolezza quella che è andata avanti per anni, dopodiché alle medie c'è stata un po' la vera svolta, dalla seconda media in poi, cioè io ho iniziato veramente a leggere libri che sono tutto forche consigliati ad una bambina ancora di 12 anni, e mi sono appassionata poi soprattutto in terza media, grazie anche al mio prof di italiano, di lettere, no, italiano si dice ancora la media, dell'epoca che era veramente super incoraggiante dal punto di vista della lettura, dava un sacco di consigli, provava, spiegava, era super disponibile, e mi avvicinai alla letteratura russa, quella che poi io scoprì essere il mio grande amore, perché poi era un periodo dove ero molto fissata con i Ronov e la storia russa, non a caso mi chiamate sempre Zecca Rossa qua sull'internet, mi danno sempre della comunarda, e no, a parte gli scherzi veramente stupidi e che non trovo il, ok, scusatemi non trovavo il correttore, questo è grave perché come avete visto ho le occhiaie più profonde dalla galassia, quindi ne ho un po' bisogno, e comunque insomma era un periodo dove ero molto fissato sia con la storia russa che con i Romanov, e quindi una cosa tira l'altra, ecco, e da lì ho iniziato sempre con cose abbastanza leggera ai tempi, mi ricordo che la prima cosa che lessi fu la sonata di Kreutzer di Tolstoi, e da lì ho iniziato proprio ad appassionarmi, ma è una delle correnti letterari, correnti insomma letterari, dei filoni letterari che proprio più seguito fino alla fine delle superiori, tuttora ogni tanto butto l'occhio, ecco, e tra i miei prefe, cioè proprio nella triade, allora c'è sicuramente Dostoevsky è il primo posto sopra ogni cosa, perché come racconta lui l'umanità non lo fa nessun altro, poi sicuramente Nabokov, perché sia Lolita che L'occhio sono proprio due dei miei libri preferiti, di sempre per sempre, anche se L'occhio l'ho letto all'università, e poi Bulgakov direi, cioè è molto difficile, perché a me piacciono davvero tantissimi autori russi, cioè da Solsenici a Pasternak, o Pasternak, vabbè comunque, Gogol, Pushkin, cioè mi piacciono tantissimi autori, Tolstoi che stavo per scortare, ma probabilmente no, cioè insomma da questa fase qua, dove io mi sono avvicinata a queste, che è andata avanti per tutte le superiori, non è che non ho letto Delitto e Castigo in terza media, cioè ci tenevo a dirlo magari, non avrei capito poi niente tra l'altro, però insomma è proprio una delle correnti che mi ha appassionata ancora di più alla lettura, poi mi sono spostata alle superiori, anche con un sacco di consigli, programmi, insomma le cose che succedono un po' sempre, però io ero molto ossessionata da leggere, eccetera, ho il naso rosso, come se avessi il raffreddore, e mi sono avvicinata moltissimo ai classici, e che sono rimasti fondamentalmente il punto forte che mi ha accompagnato per tutto il periodo delle superiori, e non solo, anche all'università, comunque devo dire che soprattutto tra i miei preferiti ci sono sempre stati tantissimi autori, soprattutto francesi ed inglesi, non so perché, sono sempre stati quelli che ho preferito, e mi sono sempre piaciuti di più, penso a Zola, Maupassant, Flaubert, Proust, sì, io feci la mattata di leggere la recherche un'estate, tipo tra la terza e la quarta superiore, perché ero malata, cioè vabbè, ma poi Harry James, Stendhal, Le Bronte, Le sorelle Bronte, la Austin ovviamente, Thomas Hardy, Mary Shelley, poi scopri in poesia, e mi avvicinai tanto soprattutto in poesia, Ungaretti e la Dickinson, che mi piacevano tantissimo, e tuttora Ungaretti è il mio poeta preferito, e la Dickinson è la mia poetessa preferita insieme, è Sylvia Plath, che vuol direte, eh, sì, e poi piano piano anche qualche classico però più contemporaneo, qualche autore considerato classico però più vicino a noi, come la Wolf, come Kafka, come Fitzgerald, come la Dura, Bradbury, Orwell, ovviamente la Bevoie, Sartre, la Leramo, la Deledda, Elsa Morante, che io amo alla follia, e ve l'ho già detto, poi anche tipo Solbello, Boris Vian, io facevo il liceo linguistico alle superiori, e studiando tedesco un po' affrontammo opinioni di un clown, di Beul, che però è, cioè, letto così, era impossibile in lingua, quindi niente, però comunque approfondì Beul, che secondo me è un genio, tra Katarina Blume e opinioni di un clown, è uno dei miei prefe, comunque insomma, anche Shiguro, poi esatto, mi piaceva un sacco Shiguro ai tempi, qui, non lo so, mi piaceva veramente tantissimo, detto ciò, però era anche il periodo, dove io, mi scoprì, veramente, tanto Trasgri, nel senso che, immaginatevi, la vostra ragazza, con i capelli colorati, incazzata come una pantera, e che doveva essere anche Trasgri, oltre che molto, spocchiosa ed intellettuale, e quindi, fu il periodo, dove mi avvicinai, proprio a quegli autori, che vengono considerati, almeno ai tempi, adesso non lo so, perché io non seguo proprio più niente, di ciò che ha a che fare con, con la letteratura contemporanea, ecco, quindi non le so nulla, cioè non seguo più che altro, il mercato, i filoni, comunque insomma, immaginatevi tutto, ciò che aveva a che fare con, i Trasgri, quindi c'era, io lo chiamo Palahniuk, non riesco a dire Polniuk, o come si dice, io lo chiamo Palahniuk, quindi letto tutto, Palahniuk, Brita Sonellis, Welsh, ovviamente, perché figuratevi, se non ero tutta, dentro quei film lì, la Santa Croce, poi mi piaceva tanto Coetze, che non so se dice Coetze, se io lo chiamo Coetze, comunque quello di Vergogna, eccetera, eccetera, la adoravo, la Santa Croce, figuratevi, se non ero tra le mie prefe, Anais Nin, Bukowski, JT Leroy, o Leroy, e diciamo che, figuratevi, se queste cose non rientravano, in tutto questo, era un periodo proprio super Trasgri, perché se vuoi essere un adolescente, veramente Trasgri, devi leggere certe cose, e io, lo stereotype, lo facevo tutto, ce l'avevo tutto, quindi, aspetta che devo decidere, anche cosa voglio fare, agli occhi, anche perché non vedo niente, in tutto ciò, era anche il periodo, dove mi sono avvicinata, tanto anche al fantasy, ragazzi, io leggevo veramente, una quantità di libri, spaventosa, ma, cioè, non riesco neanche a quantificarvi, quanto leggessi, e perché leggessi così tanto, so che era tanto, nonostante questo, mi piaceva veramente tanto, la lettura era qualcosa che io amavo profondamente, e quindi ci dedicavo un sacco di tempo, e quindi niente, allora, come continua la mia storia con il, mi avvicinai tantissimo al fantasy, ma, più che fantasy, basta anche il distopico, perché avevo letto Bradbury, avevo letto Orwell, tanto, e quindi da lì, il salto fu abbastanza facile, perché effettivamente, era il periodo, dove Anne Rice, era ancora, cioè, gigante, quindi io, Lessie, allora, Lessie soprattutto, vabbè, di Lestat, insomma, la questione vampiri, della Rice, mi piaceva abbastanza, in realtà, poi la mia preferita, furono la regina dei dannati, intervista col vampiro, e poi in realtà, l'altro che a me piace molto, di Anne Rice, è, The Witching Hour, l'ora della strega, in italiano, sì, penso di sì, insieme alla Rice, l'altra cosa grossa, proprio che mi piaceva moltissimo, era Lovecraft, ovviamente, perché vuoi mai che io non rientrassi, anche in quello stereotype, che mi piaceva Lovecraft, da morire, figuriamoci, no vabbè, sto scherzando, se mi piace Lovecraft, però, insomma, mi sento l'adolescente, trasgrimedia, ecco, veniamo al resto, che cos'altro, mi piaceva parecchio, ah, poi non so neanche, se questo è annoverabile, cioè no, non è annoverabile, perché sono una cagna io, però, in realtà, mi piaceva moltissimo, poche, comunque faceva, comunque parte, di questo filone, che io annoveravo, nel perturbante, fantasy, e distopico, perché comunque, lui riassumeva, tutte queste cose, no, e a me piaceva, moltissimo, era proprio il periodo, dove ne ho letto, fino a vomitare, tipo, poi figuratevi, quando ho letto, Guida Galattica, quindi Douglas Adams, mio nuovo eroe della vita, e, vabbè, insieme a lui, Neil Gaiman, Tolkien, no, Tolkien, però, a me non piaceva, io vi devo fare questo, devo fare questo, coming out, facciamolo subito, e basta, ce lo togliamo, scusate, questa operazione, richiede un certo, momento, di concentrazione, se no, mando tutto, in vacca, ok, chi altro, cos'altro avevo letto, vabbè, Pullman, che mi piaceva tanto, CS Lewis, che però, ovviamente, mi stava sulle balle, e un pochino dell'alicia Troisi, ci provai tantissimo, ma a me l'alicia Troisi, ragazzi, non piace, mi ricordo proprio, che i suoi personaggi, mi davano abbastanza fastidio, perché erano un po' blandini, eccetera, e, che altro, che altro, ah, Paolini, ovviamente, come, cioè, queste cose qua, vabbè, quelle cose che si facevano, perché nel, quando io sono stata adolescente, parliamo dei primi anni 2000, primi nel senso, fino al 2008, 2009, sto parlando, perché ho finito la, ho fatto la maturità nel 2008, e, insomma, c'erano tantissime di queste cose, e, però, cioè, vorrei, al di là dei nomi, che mi interessano il giusto, cioè, vorrei anche fare una sorta di osservazione, il periodo in cui io veramente letto, qualsiasi cosa, ma ragazzi, leggevo una quantità di libri, che era impressionante, era forse solo proporzionale, ai concerti, in cui mi andavo a vedere, che andavo a vedere, coincide anche con un periodo, che ora lo dico, abbastanza col sorriso, però davvero, con un periodo che per me fu orribile, perché la mia adolescenza, è stata orribile, terribile, ma, per me, emotivamente, ma anche per tutti quelli che mi stavano attorno, è stato un periodo durissimo, dove io ho avuto, cioè, ero proprio in difficoltà, ero, cioè, è stata pesantissima la mia adolescenza, per una serie infinita di fattori, ero costantemente incazzata, avevo questa rabbia repressa, ma non tanto repressa, incontrollabile, che mi faceva stare male, non sapevo di soffrire d'ansia, ma già soffrivo di ansia, ma da anni poi, tra l'altro, e, insomma, era un periodo molto difficile per me, e, diciamo che uno dei veicoli, in cui io riuscivo a, a sfogarmi, che poi, non so se è sfogarsi, perché non ci si sfoga, quando si legge, però, si cercano risposte, o non lo so, si cerca una comprensione, si cerca persone simili a te, forse, anche nei libri, che ti spieghino quello che sta succedendo, sciocchi, non succederà mai qualcuno che ve lo spieghi, a meno che non andate da qualcuno che sia del campo, e, e io lo facevo tramite anche la lettura, soprattutto con la musica, ma anche tantissimo con la lettura, e, diciamo che, cercavo un po' di esorcizzare, quello che era, il mio momento più buio, leggendo tantissimo, perché mi dava, mi dava delle risposte, in qualche modo, non so che tipo di risposte, non so neanche se fossero delle risposte valide, però in quel momento, era la cosa che, mi dava certezze, mi dava sicurezza, quindi per me è stato un grande aiuto, una grande mano, è stato proprio un modo per riuscire a capirmi, a osservarmi, ad immedesimarmi in qualcun'altro, nella storia di qualcun'altro, in un periodo in cui io non riuscivo a farlo, perché ero così arrabbiata, e così frustrata, cioè, era molto faticoso, cioè, per me l'adolescenza è stato un periodo molto faticoso emotivamente, fondamentalmente la lettura, mi ha dato una mano, in tante maniere, non sempre giuste, non sempre quelle che sarebbero state le più utili, ma sicuramente mi ha dato una mano, e grazie al, forse, tutto il periodo orribile della mia adolescenza, io ho letto, penso, più di qualsiasi cristiano presente su questa, sul suolo italiano normale, no? Perché fondamentalmente ero, boh, infelice, ero triste, ero arrabbiata, mi sentivo sempre perennemente, saprei neanche dire, ero veramente, cioè, la rabbia è proprio ciò che contraddistingueva la mia adolescenza, per tanti fattori, tanti motivi, mi sentivo, in modi che, che sono, erano, cioè, in modi che erano, ovviamente, molto amplificati, perché mi sentivo di vivere un'ingiustizia profonda, da tanti punti di vista, però, diciamo, insomma, un po' per spiegare, anche come la lettura in certi momenti, per me sia stata una valvola importante, e quindi, diciamo, era facile per me, invece, convogliare parte della rabbia lì, quella magari un po' più complessa, quella che con la musica non riuscivo ad esternare, lì era facile, con i libri è stato molto più facile, è stato, boh, non lo so, complesso, ragazzi, non so neanche, cioè, spiegarvelo bene, ma passiamo avanti, così dopo, cioè, magari vi tiro un po' le somme di questo discorso, che sarà delirante, mi rendo conto, allora, passiamo a loro, cioè, dopo io ho studiato lettere, io mi sono iscritta a lettere, perché ero una grande intellettuale del cazzo, quindi, insomma, cosa vuoi fare? Fai lettere, perché un giorno tutto questo ti sarà utile, sto scherzando ovviamente, ragazzi, questo è un video ironico, se non arrivo alla fine, se non disperandomi, e all'università in realtà, io ho fatto delle grandi scoperte, che sono proprio rientrate tra i miei preferiti, sicuramente in primis, tondelli, scoperta proprio della vita, che amo e adoro, e so che in tanti che mi seguite, lo amate, quindi mi fa un sacco piacere, anche perché non lo vedo quasi mai citato, non lo vedo molto approfondito, in realtà tondelli secondo me è troppo, e poi Agota Christophe, altra scoperta incredibile, chi altro mi è piaciuto tantissimo, che ho scoperto lì, ah sicuramente Celati, Buzzati, Pavese, Pavese io avevo letto pochissimo prima, ma all'università ho letto Dalla Luna i Falò, poi dopo ho recuperato tutto, perché lo amo, ah ovviamente scusatemi, dovevo fare il disclaimer prima, tutto ciò che io sto facendo alla mia faccia, voi non replicatelo a casa, perché è tutto sbagliato, capito, cioè non è un tutorial makeup questo, perché non so, cioè sapete che io sono la Buitiguro Poraccia, ah poi Tabucchi anche, che mi stavo dimenticando, periodo universitario, direi Tabucchi anche, non da dimenticare, e poi io feci la tesi su Montale, su Xenia di Montale, che era un'opera che non conoscevo, io Montale lo conoscevo praticamente solo per gli ossi di seppio, e poco altro, ho fatto poi velocemente alle superiori in me, e invece leggendo Xenia mi sono proprio innamorata di Montale, penso che sia qualcosa di incredibile, lo amo, e non l'avrei mai detto, perché quando io dovevo fare la tesi la volevo fare su tutt'altro, se la volevo fare su Fenoglio, che fin dalle superiori era uno dei miei prefe, mi ero scordata prima di citarvelo, ma la prof non voleva, perché non era suo, fece delle storie, alla fine lo feci la tesi in filologia della letturatura italiana su Montale, molto molto interessante come argomento, ma tanto io non ho una laurea e non mi sono mai laureata, quindi non è un problema, e proprio per questo io ho passato due anni, dopo non essermi laureata, un anno e mezzo più che due anni, senza leggere nemmeno una pagina, tanto era il trauma, diciamo che per me è la fine della mia carriera universitaria, ora lo dico super sorridendo, perché in realtà è stata la mia salvezza probabilmente, però ai tempi quando successo, ovviamente immaginatevi la crisi esistenziale, insomma, però questo poi diventa un argomento solo, cioè diventa un video solo sul mio fallimento universitario, cosa che non deve essere, comunque insomma, dopodiché io ho ripreso a leggere, soprattutto concedendomi alcune cose, nel senso, ho iniziato a rileggere soprattutto gran biografie, io mi ero buttata a un certo punto, quando avevo detto non è possibile che non leggo niente, proprio dal 2013 fino a metà 2014, io non lessi una pagina, me lo ricordo ancora come un evento traumatico, io non lessi una singola pagina, che per me era davvero traumatico, perché non era mai accaduto nella mia vita che io non leggessi neanche una pagina, comunque insomma, successo, e per ricominciare a leggere, me lo ricordo ancora, perché era torno a Natale, ero abbastanza a casa in quel periodo, quindi avevo un po' di tempo, mi rimisi a leggere delle gran biografie, io sono una grande appassionata di storia, soprattutto una grande passione per le regine e le principesse, e quindi lessi tipo quattro biografie biografie della regina Vittoria, sei, sette biografie su Maria Antonietta, quattro biografie su Maria Teresa, che è la madre di Maria Antonietta, Caterina la grande, cioè io ho iniziato, sì, sì, cioè iniziai a leggere, tipo nel giro di un mese avevo fatto fuori 30 libri, non ho mai raggiunto quei livelli, calcolate che ero in ferie, non lavoravo in quel periodo, ero a casa, è successo un po' un mezza sfiga, perché rimasi a casa dal lavoro, poi per fortuna mi chiamò, cioè trovai lavoro dopo tipo due settimane che ero ferma, però insomma in quel periodo ho capito, ok, sono stata una gran stupida a non leggere mai nulla, però forse ce n'era bisogno, forse avevo bisogno di non leggere, non ero mentalmente pronta a ricominciare, e diciamo che dalle principesse, dopodiché mi sono riavvicinata anche tanto al fantasy, perché sentivo che era proprio il genere che mi dava più, non so se dirvi soddisfazioni, però era proprio il genere che avevo più voglia di leggere, da lì mi sono riavvicinata tantissimo allo young adult, ho riprovato a leggere tante cose che prima avevo lasciato stare, o che avevo ignorato, che non mi piacevano, tante cose, e diciamo che da quel momento in poi mi sono giurata, che non avrei mai letto nulla che non avevo voglia di leggere, che non avrei mai letto nulla che non mi rendeva in quel momento contenta, soddisfatta, e non mi dovevo, cioè che poi dopo vi spiegherò, cioè questo discorso avrà un senso a un certo punto, comunque avevo necessità di leggere soprattutto quello, perché avevo una necessità soprattutto di vedere la lettura come escapismo, come un modo per evadere, da quello che era il momento, il mio trascorso, il periodo, cioè era appena uscita anche da mesi abbastanza pesanti, era uscita anche proprio da un periodo personalmente molto pesanti, prima ho fatto confusione con le date, comunque stiamo parlando del 2013, non del 2014, insomma uscivo da un periodo personalmente pesante, scusate se sto facendo confusione, ma io troppe cose alla volta non le riesco a fare, quindi insomma ero un po' nel pallone, ero un po' andata in banana, e da lì non so, cioè non è che mi ero mai imposta di leggere certe cose, però avevo forse bisogno di vedere la lettura in quel momento per me, come qualcosa che mi svagasse del tutto, che non mi facesse continuamente pensare alla mia condizione, a come stavo, stavo meglio, ok, stavo molto meglio, però, boh, non lo so, avevo bisogno di fare altro, e quindi come sono cambiata io da lettrice, per fare un overview generale, come sono cambiata io da lettrice, nel senso, io sono cambiata moltissimo, nel senso che, ho cambiato proprio il mio approccio alla lettura, per certi versi, perché per tanti anni, la lettura per me è stato l'unico modo nel quale sfogare proprio quel sentimento di rabbia, del quale vi parlavo prima, però quando vi dico che ero un'adolescente arrabbiata, cioè non voglio sminuire quella sensazione, perché era davvero qualcosa di molto profondo, cioè io provavo questo senso di insoddisfazione, ingiustizia, molto molto forte, che sfogavo in tante maniere, e la lettura mi dava modo di capirlo, di ragionarci, di boh, anche di sentirmi un po' compresa, a parte di qualcun altro, che aveva vissuto quello che stavo vivendo io, che passavo io, tante cose insomma, e non era solo adolescenza, perché sicuramente l'adolescenza amplifica tante cose, però insomma io stavo vivendo un periodo orribile, detto ciò, la lettura, per me era proprio un modo con cui io mi proteggevo da queste sensazioni, perché davvero ognuno vive la lettura in maniera molto personale, molto propria, per me il fatto di riuscire a leggere, riuscire a comprendere, riuscire a darmi risposte, grazie alla lettura mi faceva sentire più forte, mi faceva sentire anche, e questo era il lato negativo, invece spavalda, mi faceva sentire un intellettualoide del cazzo, come mi vedo ora adesso, perché mi proteggevo da quelle sensazioni, che mi facevano sentire debole, che mi facevano sentire in qualche modo in difetto, che mi facevano sentire come se queste sensazioni negative, che io provavo amplificassero, o la rabbia, l'ingiustizia che sentivo, eccetera, e riversavo nella lettura, e nel sentirmi intellettualmente superiore, qualcosa di, qualcosa che mi facesse sentire meglio, no? Perché sfogavo le mie insicurezze in questo modo, cioè è veramente brutale come modo di spiegare, non so neanche se, ho passato anni a razionalizzare questo aspetto, e tuttora non ne sono del tutto priva, però diciamo che ai tempi era veramente molto acuita, io ora non penso assolutamente, che ci siano lettori di serie A, di serie B, eccetera, eccetera, ma ai tempi lo pensavo, ne ero convinta, perché quello mi dava, non so come dire, mi dava proprio sicurezza, perché mi diceva che, boh almeno in qualcosa, la tua vita non fa cagare, e so che è brutto, perché ora ho passato anni proprio, anche a punirmi, anche a sentirmi, molto a disagio, per questo mio atteggiamento, e non è semplice, però insomma, ero giovane, tutti siamo stati giovani, tutti abbiamo, penso, fatto delle enormi, giganti, e incalcolabili minchiate, e, insomma, cioè non voglio passare il resto della mia vita, a sentirmi in colpa, per quello che provavo in quei momenti, anche perché parte della colpa, era che io non sapevo di soffrire di ansia, e quindi, insomma, diciamo che, incolpavo in quel periodo, gli altri, di non essere, intellettualmente a livello, di non dedicarsi abbastanza alle letture, e a un certo tipo di letture, mi ricordo che, c'è calcolata che io sono di quegli anni, gli anni di Twilight, e gli anni di, come si chiama, tre metri sopra il cielo, e, insomma, mentre tutti impazzivano per queste cose, mi ricordo che l'essi Twilight, e rimasi sciocco basita, ecco, detto ciò, era ovviamente il libro preferito, da tutte le mie compagne di classe, ma era normale, ma non c'è niente di male in questo, però i tempi per me era inaccettabile, ecco, cioè, ma era anche comprensibile, che a 16 anni, tu non vuoi passare la serata, a leggere le anime morte di Gogol, ma vuoi leggere una cazzata, se proprio proprio devi leggere, o, insomma, cioè, io pensavo, che questo atteggiamento, mi avrebbe resa migliore, mi avrebbe resa più felice, mi avrebbe resa, non so, una persona meno triste, mi avrebbe portato via, quello che io provavo come dolore, fortissimo, e ragazzi, lo sto dicendo veramente perché, ci ho messo tanto anche a superare questa fase, no, e vorrei che fosse un discorso abbastanza comprensibile per tutti, non sto dicendo che chi legge Twilight, o chi legge le altre robe stupido, perché non lo penso, però per anni ne ero convinta, perché pensavo che quello avrebbe reso me più felice, vorrei che passasse magari questo, come dire, la mia evoluzione da lettrice, in realtà è stata un, abbandonare alcuni tipi di sensazione, che in realtà facevano sentire me in difetto, e che cercavo di compensare con, non so, leggendo tantissimo, ma leggendo con una maniera critica, perché dovevo capire, dovevo viscerare, una pesantezza, ma una pesantezza, pensavo che questo avrebbe reso me più felice, ci ho messo anni a capire che, se io ero infelice, questo non avrebbe, assolutamente modificato la mia condizione, cioè ero tanto rigida verso me stessa, quanto con gli altri ovviamente, quindi la mia evoluzione da lettrice, è più che altro un'evoluzione personale, io ho passato un periodo molto diversi, allora l'ansia mi è stata diagnosticata tardissimo, cioè a 22 anni, cioè capite, che da lì c'è proprio una svolta, cioè ci sono dei cambiamenti epocali, che ti succedono, almeno per me fu così, e scusate, adesso devo fare un'operazione di precisione, quindi non so cosa verrà fuori, beh, per me infatti, in quel periodo, iniziai intanto a cambiare io personalmente, come persona ero molto meno rigida, molto meno stronza, molto meno, più incline alla socialità, cosa che prima non ero, e anche come lettrice, mi sono sempre concessa, sempre di più, cose che prima avrei ritenuto, sciocche, ecco, sciocche, stupide, eccetera, scoprei, in realtà, che mi piacevano un sacco di cose, che avevo bollato, e tenuto lontano da me, perché ero stupida, no? ho fatto la riga più tremolante della storia, vabbè, ma non siamo qui per fare i makeup artist, e poi, diciamo che, quando ho ripreso a leggere dopo l'università, dopo il periodo dove non avevo letto nulla, mi sono concentrata soprattutto sui fantasy, non perché il resto non mi piaccia più, perché ogni tanto, ho bisogno anche di tornare su altre cose, non è che leggo esclusivamente fantasy, però diciamo che, mentre prima sentivo molto più quell'esigenza lì, ora la lettura è veramente il mio momento, dove spengo un po' il cervello, non che lo spengo, perché se no, non è così, però diciamo dove cerco una sorta di, non so, proiezione su altre cose, che mi fanno ragionare su macro temi, e non sulla mia esistenza, ecco, perché fondamentalmente in questo periodo sono più contenta, quando magari sarò più depre, quando le cose andranno male, magari tornerò a cercare delle risposte, e non lo so, devo dire che c'è una cosa che ho sempre mantenuto, ovvero una grande attenzione, su quello che stavo leggendo, ecco, ho fatto il danno, porca miseria, se no mi mettete i pollicini in basso, non lo so, magari ricercherò altre risposte, altre cose che ora non sto cercando, ora voglio concentrarmi sul fantasy, perché rimane il genere che leggo, con più passione da più tempo, è quello che mi piace, trovo anche che ci siano cose che voglio indagare, voglio approfondire, che insomma, l'ho sempre fatto con grande attenzione, ho sempre letto con grandissimo senso critico, quindi magari questo è un aspetto che a me non è mai mancato, quindi dal punto di vista dell'approccio, tra i due ho sempre cercato di fare più attenzione possibile a determinati temi, anche crescendo con una consapevolezza sempre diversa, ad esempio, una cosa che ho notato, che più mi avvicino, più mi avvicino ovviamente al femminismo, e a temi legati alla figura della donna, alla concezione delle relazioni, approfondisco tantissimo gender studies, di varia natura, eccetera, mi rendo sempre di più conto di avere una consapevolezza molto diversa rispetto a qualche anno fa, e che voglio sempre di più capire determinati meccanismi, ecco, così è sicuramente cambiato il mio approccio alla lettura, che prima magari erano cose che evidenziavo ma lasciavo un po' da parte, ma anche per ignoranza o mancazza di approfondimento, eccetera, ma che ora mi paiono proprio la base, il fondamento di quello che faccio, di come leggo, di cosa cerco anche nelle letture nuove, ok, mi mancano solo le sopracciglia, che non farò qua, ma le farò fuori video, se no divento scema, e quindi fondamentalmente i miei grossi cambiamenti come lettrice rimangono questi, spero che le mie parole vengano capite, quello che voglio trasmettere è fondamentalmente che la lettura per me, ha sempre avuto una funzione soprattutto sociale, diciamo che soprattutto anche una sorta di mondo dove io cercavo delle risposte, che non avevo, non capivo, non lo so, cioè era complessa la questione, ho letto veramente tantissimo nella mia vita, e mi rendo conto di aver avuto anche la fortuna, di non so, di aver avuto questa passione, perché mi ha insegnato tanto, e mi rendo conto che mentre io cercavo lì delle risposte, tantissime persone non le avevano, e non le hanno mai trovate, e non hanno mai trovato il modo di averle, e quindi insomma io mi ritengo molto fortunata, nella mia evoluzione, che può sembrare un'involuzione per tanti, in realtà io non sono mai stata così contenta, così motivata, di leggere come in questo momento, e non lo so, mi fa sempre piacere, penso che sia una di quelle cose che porterò sempre con me, e poi se anche ci dovessero essere momenti come, è già successo, dove io non voglio leggere neanche una riga, non sarà assolutamente un problema, insomma in qualche modo si riprenderà, poi magari fra qualche anno, invece che fantasy, c'ho voglia di leggere solo romanzi storici, nulla di male, non c'è nessun tipo di problema, e penso che soprattutto, è la cosa che ha un po' contraddistinto, sempre il mio percorso letterario, è anche la voglia proprio di, di conoscere anche una vastità, una complessità del mondo letterario, adesso però mi metto gli occhiali, perché non vedo niente, e cioè nel senso, io sono un po' di quelle che pensa, che alcune letture siano necessarie, sorry not sorry, per questa mia opinione, nel senso che, è ovvio che non a tutti debbano piacere i classici, non a tutti debbiano piacere tutte le cose, ci sta, è normalissimo, e anzi, è più che normale, però diciamo che per fare soprattutto, critica letteraria, con un certo tipo di approfondimento, per me, alcune letture sono fondamentali, cioè non posso pensare, che si parli di distopia, senza aver letto determinate cose, non posso pensare, che si parli di evoluzione, cioè vabbè, questo è un discorso ancora oltre, però insomma, la mia fortuna è stata proprio, anche aver avuto la possibilità, il tempo, la voglia, la spinta, la motivazione, buona, cattiva che fosse, per approcciarmi a tantissimi titoli, perché mi rendo conto che, sono riuscita, e ho avuto la possibilità, di leggere tantissimi classici, tantissime cose, che hanno gettato le basi, anche per una conoscenza critica, di quello che è un mondo, che ora sembra completamente distante, come il fantasy, che in realtà non è così distante, perché non è distante da nulla il fantasy, e niente, io non sapevo neanche come impostare questo video, non so neanche se è giusto impostarlo così, vi ho sbrodolato una serie infinita di nomi, una serie di cose personali a caso, perdonatemi, ma come sempre sapete che io sono, quella più ACDC, come dico io, cioè a cazzo di cane, di YouTube, perché non mi interessa essere una persona, che non sono, non sono più un intellettualoide, anzi sono felice di non esserlo, sono felice di aver capito, che posso essere tranquilla, anche essendo me stessa, che è una cosa che mi rende molto felice, non so se ha senso, comunque ho capito, soprattutto che nella mia diversità, diciamo che nel mio modo di essere diversa, per alcune cose, è strana, e avere passioni strane, eccetera, forse è il modo migliore, nel quale presentarmi agli altri, al prossimo, senza bisogno di dover sembrare qualcuno, che io non sono, e so che è una frase trita, ritrita, da retorica dei sogni, io sono molto lontana, dalla retorica dei sogni, perché, non funziona così il mondo, però devo dirvi che, in questo, io almeno, ho saputo trovare un po' la mia strada, e l'unica costante davvero, sono stati libri, sono stati libri, insieme alla musica, e quindi insomma, questo è quanto, non so neanche se abbia senso, non so neanche se verrà un video sensato, però spero comunque, di avervi tenuto compagnia, e benvenuti nel, get ready with me, mi devo ancora fare sopra, ci diamo, le faremo dopo, il gatto mia agola, che ha fame, quindi io vado a dargli da mangiare, spero di avervi tenuto compagnia, anche oggi, e direi che, ci vediamo al prossimo video, ciao!